Era già andata piuttosto male con le ciliegie, ci sono alberi dove non sono neanche state raccolte e che oggi sono completamente secchi. Si sperava però di potersi rifare con albicocche, pesche, percoche e soprattutto con l'uva. L'eccezionale ondata di caldo di luglio, unita all'assenza totale di piogge, ha però provocato danni enormi. Dissecamento degli acidi, dei raspi proprio praticamente, scarsa vegetazione, quindi almeno per quanto riguarda i mitedoni, stiamo avendo molte difficoltà, quindi a livello di irrigazione cerchiamo di compensare e di ridurre il danno, non eliminarlo, perché è difficile l'eliminazione. Questo ovviamente vi porta ad irrigare molto più spesso? Molto spesso, in alcuni casi, in alcuni giorni, anche quotidianamente. Pur portando più acqua nei campi la situazione resta critica e il prodotto non è neanche gradito dal mercato. Diamo tanta acqua, però purtroppo si asciuga presto, abbiamo un problema sulle piante, sulla pezzatura, purtroppo la vendita, vogliono tutte le pezzature grosse, però purtroppo quest'anno ci stiamo trovando un po' in difficoltà. La temperatura non fa altro che aumentare la possibilità di dover obbligatoriamente irrigare. Irrigare significa aumentare il numero dei turni di irrigazione, aumentare il numero dei turni di irrigazione significa anche pagare molto di più l'acqua.